I rumors su una possibile crisi tra Sinner e Anna Kalinskaya stanno diventando sempre più insistenti. Il tenero bacio che aveva fatto il giro del mondo dopo il trionfo dell'azzurro agli US Open, dove ha battuto Taylor Frizzi in finale, sembra ormai un lontano ricordo. Infatti, la tennista russa non si è fatta vedere né durante le ATP Finals di Torino né a Malaga, dove il numero uno al mondo è impegnato con la squadra italiana guidata da Filippo Volandri nella Coppa Davis. Intanto, Kalinskaya si trova a Miami, come mostrano le sue storie su Instagram, dove appare in compagnia delle amiche. Proprio sui social, la tennista ha condiviso un messaggio enigmatico che molti hanno interpretato come uno sfogo personale. Nella foto di un biglietto si legge. Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te. Questo gesto ha acceso il dibattito tra i fan, alcuni dei quali hanno ipotizzato che il messaggio fosse indirizzato proprio a Sinner. Non apprezza abbastanza Kalinskaya, aveva scritto di recente un utente sui social. Tuttavia, i segnali non sono del tutto chiari. Mentre Sinner ha messo l'IKEA gli ultimi post di Anna, la russa ha smesso di seguirlo su Instagram. Si tratta di una pausa per riflettere? Una rottura definitiva? O magari solo un momento di distanza temporanea? I sostenitori della coppia sperano che, una volta terminata la Coppa Davis, emerga maggiore chiarezza su quello che sta succedendo. Per ora, rimangono solo supposizioni e tanti interrogativi. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.